Finanziamenti in più rispetto a quelli previsti. Secondo i giudici contabili la regione avrebbe affidato in maniera illegittima fondi in più rispetto a quelli che erano stabiliti. Sarebbero stati incrementati i finanziamenti già stanziati. Accolto parzialmente il ricorso per l'ex assessore alla formazione, il vittoriese Carmelo Incardona, che dovrà risarcire 790 mila euro, come riporta oggi il sito RTM. Confermata invece la soluzione alla funzionaria Loredana Esposito. I giudici d'appello della Corte dei Conti, sezione della Sicilia, hanno confermato per molti politici e funzionari coinvolti la condanna a risarcire la regione siciliana per la vicenda dei fondi extra budget assegnati agli enti di formazione. È stata confermata la condanna Patrizia Monterosso, ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, ora segretario generale della regione siciliana, che dovrà restituire 1 milione 279 mila euro. Sono stati accolti i ricorsi dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo e del funzionario presso il servizio programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale Salvatore Di Francesca, che non dovranno risarcire somme. Sono state invece confermate le condanne anche per gli ex assessori Santi Formica, che dovrà risarcire 379 mila euro, Luigi Gentile 224 mila euro, la ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale Alessandra Russo, 378 mila euro, l'ex dirigente del servizio programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, 474 mila euro, e l'ex dirigente dapprima presso il servizio rendi condazione, poi presso il servizio gestione del Dipartimento della Formazione Professionale, Nino Emanuele, che dovrà risarcire 365 mila euro. Grazie. 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 Grazie.